E' terminata la partita alla Montesilvano Futsal Cup tra Acqua e Sapone e sportiamo di Grugliasco Torino vinta dall'Acqua e Sapone per 3 a 2. Qualcuno è il portiere Gianmarco mentre vediamo le sue parate e le altre azioni a lui chiediamo un commento su questa partita. E' stata una bella partita anche con l'incremento di 2001, compreso me che sono anche a 2001, una bella partita, una squadra comunque completa con due nazionali allo stage che si farà dal 4 al 6 luglio a Lanciano, il giocatore di Febo e Ferretti. Il risultato 3 a 2 è una bella partita combattuta, possiamo dire, perché comunque il risultato 3 a 2 è un buon risultato. A livello di errori che abbiamo avuto, soprattutto in difesa, niente. Grazie Gianmarco per l'intervista, ci vediamo prossimamente sui campi. Forza Acqua e Sapone e un saluto alla squadra. Ed ora siamo con Michele dello Sportiamo mentre vediamo il suo volo e le altre azioni, anche a lui chiediamo un commento su questa partita. E' stata combattuta dall'inizio alla fine, poi all'inizio del primo tempo c'è stato un rigore e l'altro ce l'ha dato. E magari lì potevamo andare in vantaggio noi, però siamo rimasti ancora sotto di un gol. Poi nel secondo tempo ci siamo un po' ripresi e abbiamo fatto un gol, però poi ce ne hanno fatto un altro e lì abbiamo perso proprio la grinta. Però ci siamo ripresi verso la fine e con il mio gol da calcio d'angolo, però mancava troppo poco. Ti ringrazio Michele per l'intervista e ci vediamo sui campi. Forza Sportiamo e saluto tutti i miei compagni di squadra.